Buonasera e vi do il più cordiale benvenuto a nome del DAAD e del Goethe-Institut al dibattito con Lucas Richel sul suo romanzo Met der Faust in die Weltschlagen. Mi chiamo Joachim Bernauer, sono il direttore del Goethe-Institut e voglio darvi un cordiale benvenuto qui su Zoom e dunque benvenuti al Goethe-Institut virtuale. In realtà avremmo dovuto incontrarci presso la sede del Goethe-Institut ma inizialmente è stato cancellato il volo di Lucas Richel e ora con il nuovo DPCM sono state vietate tutte le manifestazioni a carattere culturale. Abbiamo già lavorato diverse volte con Zoom ma sempre in forma ibrida trasmettendo la diretta di un evento dal Goethe-Institut. dal vivo al Goethe-Institut e poi in streaming grazie a Zoom. È la prima manifestazione interamente su Zoom quella che vi stiamo presentando quest'oggi. Siamo un po' nervosi anche noi dunque abbiate un po' di pazienza qualora ci dovessero essere dei problemi. Chiaramente ci dispiace dover rinunciare all'incontro in presenza ma siamo felici di poter comunque garantirvi la riuscita di questa manifestazione. Allora dovreste selezionare adesso la lingua e soprattutto dovreste selezionare chiaramente l'immagine della persona che sta parlando. Mettendo un pin potete seguire la manifestazione in tedesco o in italiano cliccando sull'icona del globo relativa all'interpretazione simultanea. Perché appunto ci sarà la traduzione simultanea. Perché il linguaggio è sicuramente uno dei protagonisti all'interno del libro Metaforst und die Weltschlagen di Lukas Ritscher. Si parla anche di radicalizzazione, del tramonto e ciononostante della presenza della Repubblica democratica tedesca. Quest'oggi purtroppo non verranno letti dei brani del romanzo però vi vorremmo come dire solleticare la voglia di mettervi a leggere questo romanzo perché dovremo sicuramente dare la possibilità a questo incredibilmente intelligente, linguisticamente talentuoso e comunque bravo scrittore la possibilità di poter presentare il suo libro e di attenderlo a Roma quanto prima. La moderazione verrà affidata ad Anna Niesen e Marco Triulzi a cui cedo ora la parola. Grazie mille dottor Bernauer per l'introduzione e soprattutto per averci invitato in questo spazio virtuale del Goethe Institute. Un benvenuto anche da parte nostra. Diciamo che l'incontro era programmato in maniera leggermente diversa ma siamo particolarmente contenti comunque di dare il benvenuto a Lucas Richel e lo ringraziamo per aver accettato di svolgere l'incontro anche in modalità virtuale. Ringraziamo il Goethe Institute, anche Kamenhof, Isabel Cento e tutti coloro che ci hanno aiutato. Grazie anche all'Ulstein Verlag, grazie al DAD per aver reso possibile questa manifestazione e ringraziamo anche le due interpreti, Soledadu Golinelli e Marcia Sesbassiani, che ci permetteranno di poter far seguire anche al pubblico di lingua italiana questa manifestazione. Anche noi rinnoviamo l'invito di venirci a trovare a Roma, a Bologna, quanto prima, dal momento quando non ci saranno auspicabilmente più virus. Allora, un'introduzione prima di iniziare il nostro dialogo, dibattito con Lucas Richel. Saremo appunto io e Marco che porteremo avanti il dibattito, rappresentanti appunto dei lettori a Bologna e a Roma. Parleremo delle tematiche centrali del romanzo, parlando un attimo di Lucas Richel, nato nel 1994 a Recklwitz, nell'alta Lusazia e ci troviamo vicino alla Polonia e alla Slovenia. Lui è nato a Recklwitz, appunto però vive oggi a Görlitz, da dove Pence sia collegato. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo testo sull'inserto della Zeit Zeit Magazine e nel 2016 è stato insegnato con il Retzofpreis per giovani talenti letterari per appunto il suo manoscritto, poi diventato romanzo, Meta Faust in die Welt schlagen, Batterie pugni sul mondo, che è stato successivamente pubblicato dall'editore Ulstein Verlag. Si svolge in una località che si chiama Neschwitz, nella Oberlausitz, alta Lusazia, dunque sempre in Sassonia e racconta la storia di due fratelli, Philip e Toby Tobias. Il libro è suddiviso in tre capitoli e abbraccia il periodo dal 2000 al 2015, raccontando un po' della provincia Sassone. Mentre un fratello si ritira, come dire, in una sfera privata un po' indisparte, la critica ha profondamente amato il romanzo, definendolo quasi il romanzo per antonomasia di quel momento. Si parla appunto di una patria che scompare e il romanzo è stato anche portato in scena in diversi teatri in Germania e attualmente la formazione forse più interessante per il pubblico italiano. È in corso la traduzione in italiano e dunque in un futuro prossimo dovrebbe essere pubblicato dall'editore Keller in Italia. Grazie mille, Lucas Richel. Do ora la parola ringraziando la Herr Richel per aver accettato questo dibattito. Dottor Richel, le diamo tra poco anche la parola, ma vorrei iniziare con la prima domanda perché abbiamo letto delle bellissime frasi nel suo romanzo ma inizierei con una citazione che lei non ha scritto nel suo romanzo, bensì nel 2014 in un'intervista con Zee.tt, un magazine online del settimanale La Zeit, lei dice che la letteratura può forse rispondere meglio al perché ad esempio la gente a Dresda manifesti in strada. Dunque parliamo di radicalizzazione, della Sassonia e lei ha deciso appunto di scriverne un romanzo, di utilizzare la letteratura. Secondo lei perché la letteratura è così potente e soprattutto perché il materiale a sua disposizione non è diventato un blog, una pièce teatrale, un film, ma proprio un romanzo. Innanzitutto buonasera, saluto tutti i presenti e grazie mille per avermi comunque invitato. Effettivamente i piani erano quelli di farmi venire in persona a Roma per potervi incontrare tutti dal vivo, però sono particolarmente felice che comunque il Giotto Institute ci abbia messo a disposizione questa stanza digitale. Spero che sia, che diventerà una bellissima serata e soprattutto che le connessioni reggano. Allora nel 2005, cioè sono ormai passati sei anni, avevo 18 anni, di conseguenza è un'intervista forse un po' stramba che ho condotto nel 2014 con questo magazine, anche perché nel 2014 ancora non esistiva il romanzo, però erano le prime sommosse organizzate da Pegida, da questo movimento europeo patriottici contro l'islamizzazione dell'Occidente. Era comunque un momento di grandissimi tumulti. Spesso la gente si chiedeva ma com'è possibile, da dove vengono queste radicalizzazioni. È chiaro che è un riflesso molto giornalistico il fatto di voler immediatamente chiarire come determinati movimenti nella società si vengono a creare e penso che la letteratura possa rielaborare lunghi periodi ed è chiaro come dire non basta che i giornalisti intervistino le persone lì sul momento per poter comprendere interi movimenti, ma penso che la letteratura possa essere più presente perché è presente prima dell'eruzione e anche dopo l'eruzione di un vulcano. Di conseguenza può coprire una prospettiva più a lungo termine che viene chiaramente anche rielaborata in maniera diversa di come non possa fare il giornalismo o un giornalista perché la cosa interessante non è solamente per quanto tempo osserviamo un fenomeno ma anche come lo osserviamo e la letteratura riesce a fare proprio questo perché in un certo senso ha la capacità di entrare all'interno dell'animo delle persone raccontando gli eventi da dentro e non solamente dall'esterno riuscendo appunto a calarsi nei panni di quelli che possono essere i protagonisti, cosa che rende la letteratura di ampissimo respiro perché dai personaggi, dai protagonisti stessi si riesce a comprendere un movimento, cosa che riesce a fare solamente la letteratura, nessun'altra arte, né il cinema, né appunto altre serie televisive che possono essere Netflix o anche i cartoni animati su Disney Plus, lo può fare solamente la letteratura. Grazie mille. Allora ha detto che aveva 18 anni nel 2014 e che ancora non aveva scritto il romanzo ma come si è avvicinato alla scrittura allora? Una storia abbastanza lunga ed è un aneddoto che peraltro trovate su internet e spesso mi viene richiesto. Allora vi racconto questa storia. Per tantissimo tempo non mi sono interessato alla letteratura, anzi la trovavo anche abbastanza noiosa e mi dispiace che appunto lo sappiano i colleghi del Goethe Institute perché proprio chi non riuscivo a leggere era proprio il Goethe con il suo Faust ogni volta a scuola questi mattoni. Poi fra l'altro noi avevamo non l'edizione della Reclam ma le Hamburger Lesa Heft che sono ancora più economici. Che cosa abbiamo fatto? Bruciavamo questi libri, addirittura ci intrasavamo le fogne per buttarli via. Ora il problema era che sono talmente economici che te li ritrovi in tutte le salse e questo è stato più o meno il mio rapporto con la grande letteratura. Era qualcosa di antiquato, di ammuffito che non mi riguardava personalmente e proprio in quel periodo avrò avuto 16, 17 anni. Ho avuto la mia prima ragazza la quale non si è tanto innamorata di me quanto del mio miglior amico, cosa che mi ha assolutamente devastato, rotto il cuore e pensavo come di aver raggiunto la fine della mia adolescenza e ho semplicemente cercato su Google che cosa si può fare contro il mal d'amore e una delle risposte gutefrage.net diceva guarda quando soffri per amore devi leggerti Anna Karenina di Tolstoi. Io non sapevo chi fosse questa signora, non conoscevo l'autore, ho ordinato il libro e mi è arrivato un mattone tanto che ho letto e la cosa che devo dire è che quello che è stato scritto e come viene scritto, probabilmente Levin, se non ricordo male questo è il nome del protagonista che richiede la mano di una donna che lo rifiuta, dovrebbe essere l'alter ego di Tolstoi che poi se ne va via da mosca ritirandosi in una zona agricola per diventare un contadino, questa figura che interagisce con una donna che lo rifiuta che poi diventa contadino, ho pensato ma quello è esattamente come me, sente esattamente lo stesso dolore e come può essere che questo ultracentenario russo peraltro pure morto è riuscito a trovare le parole che azzeccano in pieno il mio sentimento, motivo per il quale da quel momento in poi ho iniziato a leggere non solamente Tolstoi ma anche la letteratura americana, la letteratura francese e nel mio caso ho iniziato con dei tentativi di scrittura, all'inizio come dirò era anche abbastanza tipo romanzo rosa, era un linguaggio abbastanza pomposo anche abbastanza smielato e devo dire la verità che quella ex ragazza si è ripresentata alla prima del libro che è stata portata in scena e a teatro e dopo la rappresentazione mi ha addirittura scritto una lettera scusandosi per tutto il dolore al recatomi all'epoca, sicuramente un dolore che ha continuato a perdurare per tutta la mia adolescenza solamente per quel periodo e che mi ha finalmente portato alla scrittura. Grazie allora Tolstoi, è stato detto più volte, si parla appunto della Dedea non solo ma anche una Dedea che è presente. Ora all'inizio del mese, il 3 ottobre, sono stati festeggiati, ricorreva il trentesimo anniversario dalla caduta del Moro. Lei stesso è nato nel 1994 dunque non ha mai attivamente conosciuto la Repubblica Democratica tedesca che però è protagonista del suo romanzo che si svolge appunto su un arco di tempo dal 2000 al 2015 nonostante sia dunque finita continua ad essere presente. Secondo lei oggi quanto ancora, che ruolo ricopre ancora la divisione delle due Germanie e qui vedo che ci sono diversi studenti miei e di Anna, dunque Millennials e che non hanno più nulla a che fare con la Dedea. Molto interessante. Quest'anno e anche l'anno scorso la letteratura si è proprio concentrata su queste tematiche. c'è stato molto interesse a livello giornalistico e si è parlato di Ostbewusstsein, quindi di consapevolezza dell'Est, cioè questo processo attraverso il quale si diventa conci di una nuova identità e di tutti i processi che ci stanno dietro. All'interno della mia narrazione, di fatto tutti i protagonisti vengono dall'Est, vengono dalla Sassonia nella maggior parte dei casi. Magari si spostano fuori dalla Sassonia, si trasferiscono nell'Ovest, vanno a Berlino per studiare. Nel mio caso mi sono trasferito a Kassel. Questo ti porta a confrontarti con i pregiudizi nei confronti dell'Est. Il tutto può sembrare molto molto banale. Magari, ad esempio, vai al supermercato, guarda il prezzo delle banane, ti trovi quindi molto sotto la lente di ingrandimento. Quindi anche all'interno del mio libro proprio descrivo queste figure, queste persone, quindi come riuscire ad infondere questa maggior consapevolezza nei confronti dell'Est. Ed è molto interessante riuscire ad osservare come questo dibattito identitario viene portato avanti da quelle persone che quindi si ritengono persone esperte, persone che magari hanno semplicemente sentito raccontare dai propri genitori storie relativamente al passato, relativamente alla vende, alle sofferenze dei propri genitori, di come sono stati trattati, denigrati. Però sono persone che non hanno magari vissuto in prima persona queste situazioni. Pertanto questo romanzo vuole articolare un po' la loro voce, capire come il tutto ci ha colpito. Io di fatto sono sassone, sì, ma per certi versi non mi sento un tedesco dell'Est perché ho qualche vedere con l'ex DDR, con RDT. Non mi sento un tedesco dell'Est, mi sento sassone. E ho proprio questa sensazione, cioè il fatto che le generazioni precedenti alla mia appunto spesso dicano proprio questo. Io non vengo dalla Germania dell'Est, non lo dovevano fare per me, non era necessario. Quindi come è stato possibile che si arrivasse a tutto ciò? Poi ovviamente è avvenuto tutto il processo di riunificazione, c'è stata tutta una crescita anche attraverso la sofferenza. Ora sono trascorsi trent'anni e a distanza di tanti anni forse questa consapevolezza si sta diffondendo. Dicevo con grande ritardo. Forse la prima generazione è proprio la mia, quella ad aver capito che questo processo si è concluso. c'è stata una grande chance e c'è tuttora questa chance e bisogna capire in quale direzione andare ad intavolare questo dibattito. Grazie mille. Mi è stato detto dalla regia che dovremmo parlare un pochino più lentamente proprio per la traduzione simultanea. Arriviamo quindi al termine del primo blocco di domande e passiamo se vogliamo anche ad una tematica un pochino più leggera, ovvero parliamo del processo della scrittura. In un'intervista abbiamo letto che lei ha scritto a mano il suo romanzo e adesso le vorremmo chiedere, live davanti a tutti, davvero l'ha proprio scritto manualmente, a mano e se così è, per quale motivo lo ha fatto? E poi un'ulteriore domanda, com'è la sua giornata tipica di lavoro per lei, Rukas Richer, quando si alza la mattina e si mette a scrivere. Sì, di fatto ho proprio scritto a mano e il tutto ha a che vedere col fatto che internet mi distrae tantissimo. Magari mi concentro, scrivo per dieci minuti, poi mi ritrovo magari a cercare un video su YouTube. Non utilizzo i social media perché non mi attirano, ma ci sono tantissime altre cose che comunque mi possono distrarre se scrivo al computer. Motivo per cui ho deciso di scrivere il romanzo manualmente e ha avuto un effetto secondario positivo. Ovvio che tutto poi doveva essere digitalizzato, doveva essere inviato alla casa editrice, doveva essere rivisto il manoscritto. Quindi il trascrivere il tutto, il digitalizzare il tutto, mi ha dato la possibilità inevitabile di rivedere poi il testo e il modo in cui era stato scritto. Questo ha fatto sì che io abbia gestito, appunto, forse con ancora più sicurezza, tutti i miei personaggi nel romanzo. Ho lavorato in maniera molto flessibile, avevo dei personaggi molto chiari nella mia mente e ora non mi viene in mente il nome di uno scrittore che dice di praticamente aver scritto i propri romanzi con una mano utilizzando un tacuino e poi ogni volta di aver riscritto il tutto buttando via il primo tacuino. Questo autore sicuramente, adesso appunto mi sfugge il suo nome, lo fa proprio per approfondire il processo di scruttura. E devo dire che nel mio caso questo metodo, cioè di scrivere prima manualmente e poi di digitalizzare il tutto, ne è valso assolutamente la pena. E questo collegamento tra mano e cervello è comunque sempre diverso rispetto al collegamento che si instaura tra il cervello e la tastiera. Quindi mi sono detto, ne vale sicuramente la pena, vale la pena scrivere prima a mano. Scrivo quasi ogni giorno, leggo, adesso in questo momento siamo in una fase appunto dettata dalla pandemia del covid, però appunto partecipo a delle letture, viaggio. Quindi con questo romanzo sicuramente e con il successo conseguente si è aperta proprio una porta per me. Per me è un grande privilegio perché da allora ho potuto scrivere. Grazie mille. Ora do la parola ad Anna, che continuerà con le domande successive. Grazie mille. E quindi avviamo un po' il secondo blocco tematico. Spero che adesso possiate sentirmi meglio rispetto a prima. Eventualmente appunto Marco potrà interrompermi se così non fosse. Nel secondo blocco tematico ci occupiamo di un altro argomento, della radicalizzazione. Ancora prima della pubblicazione del suo primo romanzo, lei era stato considerato esperto, esperto, esperto di tutte le tematiche concernenti la radicalizzazione delle persone singole, così come di interi gruppi di popolazioni. Un fenomeno che sappiamo viene descritto in maniera esemplare nella romanzo Meta Faust in Di Veltoschard. Questa sera non la vogliamo obbligare a rivestire il ruolo, i panni dell'esperto, però ci piacerebbe comunque sapere, avere ecco la sua opinione relativamente alle tematiche di grande attualità attualmente in Germania. Che cosa intende lei per radicalizzazione? Se ci può dare magari in primis una definizione. Sì, nel mio romanzo ho proprio cercato di spiegarlo. Si tratta di un allontanamento silente che avviene dalla società, un allontanamento che poi ci spinge a combattere contro la società stessa dalla quale ci siamo allontanati. Nelle proteste che vediamo contro la situazione, contro il coronavirus, per certi versi ravviso alcuni di questi tratti perché si vede che viene utilizzata la violenza. E questo lo ritroviamo chiaramente nell'estremismo di destra, nella radicalizzazione. Ci sono alcune sfumature che sono sempre le stesse nell'estremismo di destra. C'è questa caratteristica, cioè il fatto che c'è un'aggressività nei confronti degli esseri umani. Un'aggressività dove qualcuno deve essere per forza sempre ucciso, qualcuno deve sempre riportare degli infortuni. Se non è la persona singola sono dei gruppi di persone. Conosciamo quello che è avvenuto nella storia. All'interno del romanzo c'è questo mix, soprattutto nel fratello più giovane, di allontanamento, di distanziamento interno ed esterno. La famiglia crolla, le amicizie crollano, quindi si si trova isolati, si è da soli. Non si può fare nulla nei confronti del potere, nei confronti della divisione dei genitori, nei confronti di questi rapporti che non funzionano con le donne. Quindi cresce sempre più questa sensazione che anche la società che circonda il fratello si stia sfaldando e che non sia più in grado di, in un qualche modo, comunicare dei valori. Nel romanzo lo si avverte molto, molto bene. Quindi le strutture familiari crollano completamente, si sfaldano tutto attorno alla famiglia, ai fratelli, nel bel mezzo della crisi. I protagonisti sono persone che fuggono da questa realtà. ed è questo proprio di fatto il momento in cui si avverte questa impotenza completa, si raggiunge il punto più basso, la propria esperienza a livello di potere e quindi si cerca di risalire la china attraverso la violenza, cercando di sovrastare questa situazione. Ed è questo proprio quello che accade nel romanzo. Tobias è il fratello più giovane, quindi da fuoco alla scuola primaria. E' la stessa scuola dove era andato lui in precedenza. Il paese diventa un po' il punto di orientamento. Ci sono persone che sono pronte, disposte a lasciarsi tutto alle spalle. La ricerca sull'estremismo di destra e anche tutte le teorie sulla cospirazione sembra proprio che le persone quindi creino una specie di ponte con il passato che poi viene completamente distrutto. Questo è un po' un punto critico e quindi questo porta al buio e alla radicalizzazione più assoluta. Fantastico. Arriviamo quindi alla domanda successiva che di fatto ha già trovato risposto in questa sua prima illustrazione. Quindi quali possono essere i motivi e i fattori che possono portare alla radicalizzazione nel suo romanzo? Lo si vede molto bene. Ci sono due persone che nascono nello stesso contesto, nella stessa situazione e che intraprendono strade completamente diverse. ci può dire qualcosa in merito. La radicalizzazione non è una strada che viene intrapresa, invocata un'unica volta, ma magari ci possono essere situazioni divergenti. Un aspetto molto importante, a mio avviso, è costituito dalla società che hai attorno, dalle persone che ti stanno attorno, persone che possono suffragare o meno quelle che sono le tue opinioni o che sono di altro avviso. Un fratello può riflettere, cercare di capire qual è il suo ruolo all'interno del gruppo, della società, capire se è più un gregario o se svolge un ruolo lui attivo. e quindi si crea una struttura sostitutiva, ad esempio, della famiglia, ma la famiglia si è completamente disciolta. Un altro punto importante è come anche il tutto venga digitalizzato. I gruppi Telegram, ad esempio, sono persone che magari non hanno più nemmeno contatti personali, diretti, ma è sufficiente che su Facebook o tramite WhatsApp ti venga inviato un messaggio e tu ti senti completamente scollegato rispetto al mondo, rispetto agli altri. E' difficile riuscire a affrontare la quotidianità senza ascoltare nessun'altra voce, una voce contraria a quello che è la tua opinione. La radio ormai si è sposata completamente su internet e con tutti questi gruppi, Telegram, WhatsApp, eccetera, è ovvio che è semplice riuscire a intraprendere questa strada. E se da un lato il disagio interiore si unisce a queste situazioni dove ti ritrovi in delle situazioni dove a livello digitale ti viene prospettata un'unica realtà che sembra essere quella giusta, chiaramente arriva la radicalizzazione, arriva l'estremismo, arriva il terrorismo, situazioni che stiamo vivendo attualmente e troviamo questi lupi solitari, persone che veramente diventano estremisti, radicali tramite internet e tramite internet creano i loro piani e i loro attacchi e si tratta di un fenomeno che di fatto è nato solamente ora nel ventunesimo secolo, quindi gruppi terroristici che hanno delle forme diverse rispetto al passato. Fantastico. di fatto ci ha già dato un po' il trampolino di lancio anche per la domanda successiva. In maniera provocatoria si potrebbe dire che la radicalizzazione negli ultimi anni è una cosa che ha interessato più gli uomini. Lei ha parlato quindi di cassa di risonanza ha parlato di questa situazione. Potremmo forse dire che ci sono delle circostanze a livello sociale che determinano una simile impressione nella Germania dell'Est cioè il fatto che la radicalizzazione riguardi gli uomini in poche parole e soprattutto per quanto riguarda la sua attività di scrittura per redigere il romanzo come ha gestito le tematiche ha fatto ricerca sul campo ha fatto domanda dei conoscenti magari iniziamo dalla prima domanda c'è questo aspetto maschile strabordante che emerge chiaramente è cambiata l'immagine dell'uomo sono cambiati i valori della società e questo ha comportato un comportamento anche nella struttura se vogliamo delle attività lavorative in Germania c'è un sociologo Reckwitz che non so se si è conosciuto in Italia che ha recentemente pubblicato un libro che ha parlato della società della singolarità e parla proprio di questi aspetti c'è stato un cambiamento all'interno dei vari strati della società delle varie classi sociali si parla di proletariato del servizio della società dei servizi sino ad arrivare a quindi al ceto medio al ceto più elevato più ambiente e si parla di un nuovo modello di lavoro di impiego e si tratta soprattutto degli uomini che hanno questa immagine classica della famiglia che soffrono per questa pressione questa necessità di essere conformi alla classica immagine poter avere la famiglia due figli la macchina eccetera questo è un modello che chiaramente negli anni passati 70-80 ha funzionato senza problemi mentre il nuovo ceto medio corrisponde corrisponde ad un ceto che diventa sempre più accademico che vive nelle grandi città e che ha sicuramente anche delle aspettative diverse a livello di qualità della vita di prestigio non ha bisogno della grande casa e quindi anche il sistema dei valori a livello sociale è cambiato questi uomini soffrono perché non capiscono più perché non svolgono più ruolo che avevano in passato vediamo la diffusione dei vegetariani del veganesimo a fronte invece di uomini che sprizzano ormoni da tutte le parti le vetture da un lato che diventano sempre più potenti altre che invece si rifugiano nelle cosette tiny house e quindi c'è certo polemica su questo versante sono persone che uomini purtroppo devo dire che non riescono più a gestire queste carenze questa società quindi qual è il ruolo nella società che cosa faccio adesso c'è quindi un chiaro problema già a livello di educazione il tuo ruolo è quello di crescere quello di poterti curare di una famiglia e se tutto il resto attorno crolla che qual è il ruolo dell'uomo e ci sono quindi cambiamenti in atto molto grandi a livello sociale non solamente in Germania ma in Europa negli Stati Uniti li ravvisiamo che portano a far sì che e quindi il certo medio scivoli e quindi vedono una difficoltà dell'uomo di emergere si tratta di una tematica estamente complessa che io ho cercato di includere per certi versi nel romanzo quindi questi conflitti che vediamo tra l'est e l'ovest in Germania sono conflitti vecchi di 30 anni e spesso c'è una domanda decisiva quindi il rapporto che c'è tra lo Stato da un lato e le regioni tra il certo medio di un tempo e il certo medio attuale e il proletariato nell'est ho assistito a tutti questi conflitti pensiamo a tutte queste aziende dell'industrializzazione di un tempo che adesso sono completamente scompare le persone si sono messe in proprio le cosiddette IAG quindi le aziende le ditte individuali il settore dei servizi il tutto avvenuto anche nella ex DDR e c'è tanta rabbia ci può essere tantissima rabbia io ricordo che quando ero piccolo appunto in quest'area rurale nutrivo grande rabbia c'erano più di 3 milioni di persone che si sono trasferite dall'est verso l'ovest ci è stato portato via tutto non c'era più nulla c'è stato quindi un depoperamento del territorio e io appunto avevo grande rabbia non vedevo più nessun futuro e tutto quello che era stato costruito di fatto erano delle specie di piccole tangenziali in modo tale che nessuno dovesse più entrare all'interno del nostro paese che potesse evitare il paese per passare oltre e quando questa rabbia diventa silenziosa ed è questo proprio quello che ho cercato di articolare nel mio romanzo ma non solamente dalla prospettiva dell'io narrante ma anche dalla prospettiva della società della società che viveva quindi all'interno del paese grazie mille per questa descrizione plastica e anche per appunto la trasposizione molto produttiva di questa sua rabbia all'interno del romanzo arriviamo quindi al terzo blocco di domande e ci occupiamo del tema della lingua in particolar modo la lingua vista da diversi punti di vista nel primo blocco tematico abbiamo detto che la letteratura può essere potere e quindi la lingua in che senso può diventare potere e come questo può essere avvertito nel suo romanzo magari ci può dare qualche indicazione a tal proposito e ci può spiegare come ha gestito la lingua all'interno del suo romanzo ho soprattutto accorciato abbreviato reso tutto molto più conciso nell'intento di non spiegare quanto dimostrare qualcosa è un romanzo scritto non voglio dire come una sceneggiatura ma con una scrittura molto filmica si tratta di impressione l'impressione del bosco l'impressione del panorama dell'ambiente che ci circonda perché la cosa importante era mostrare questo isolamento questa crescente solitudine ma anche le particolarità le bellezze di questa di questo panorama di questa di questi luoghi della Sassonia dell'alta Lusazia è un qualcosa che comunque mi interessa non tanto la comunicazione i dialoghi tra le persone ma proprio la chimica che intercorre fra di loro le esperienze per me più forgianti anche con la Repubblica Democratica tedesca è che le vecchie generazioni non ce l'hanno mai raccontate cosa tipica forse per la DDR e soprattutto che avevano vissuto a loro volta dalle generazioni precedenti nel dopoguerra ma è un silenzio che lascia tantissimo spazio di interpretazione tantissimo spazio d'azione che viene chiaramente sfruttato in maniera radicale dai bambini dai ragazzi protagonisti del romanzo dunque come ci si atteggia nei confronti dell'eredità pesante del nazionalsocialismo che è completamente diversa rispetto appunto a quella della DDR o dall'atteggiamento che noi abbiamo con il periodo antecedente la caduta del muro a questo si aggiungeva sicuramente un punto di vista socialista sul nazionalsocialismo improvvisamente cambia totalmente questo punto di vista siamo nella nuova Germania e improvvisamente la svastica chiaramente era un segno malvagio ma nel momento in cui vedi che una svastica viene appunto dipinta con gli spray sui muri di una scuola un insegnante che è disperato che però non sa come affrontare questo attacco di radicalizzazione che appunto cerca immediatamente di celare questa svastica con un telo bianco che però continua a cadere dunque facendogli fare anche una figura ridicola Philip non è tanto il più anziano dei due fratelli non è tanto affascinato dal nazionalsocialismo dalle svastiche ma da questa mancanza di comunicazione dal silenzio dall'incapacità degli adulti di non rendersi di non riuscirne a parlare che cosa c'è di così vietato di così proibito ed è proprio questo che lo porta lo spinge a sposare l'ideologia neonazista grazie lei osservava anche il linguaggio utilizzato oggi dalla società e soprattutto queste tematiche nel dibattito politico quando si parla di radicalizzazione quando si parla dell'est che è stato lasciato indietro che si è completamente distaccato dal resto della Germania secondo lei come viene utilizzato il linguaggio e soprattutto come questo linguaggio entra in relazione con il linguaggio utilizzato da lei nel suo romanzo allora nel romanzo ho sempre cercato di riprendere tutta una serie di pregiudizi cosa si dice gli uni degli altri cosa che continua a perdurare prima ho cercato di accennarli quando mi sono trasferito a Kassel in Assia nella Germania dell'Ovest per studiare spesso e volentieri insomma ne ho sentito di tutti i colori poi ci sono sicuramente delle tendenze in questo giudizio nei confronti della Germania dell'Est spesso e volentieri si tratta appunto di non so per esempio giovani che non hanno mai potuto mangiare le banane che erano sempre di cattivo umore che erano vestiti male non voglio dire che erano degli esseri inferiori ma non potevano beneficiare dello stesso consumismo poi avevano questo dialetto un po' strambo dell'alta lusazia io mi ricordo che i miei genitori spesso cambiavano canale perché li feriva poi sicuramente la cosa che li ha feriti ancora di più dal 2014 in poi è tutta questa visione che l'Occidente sì per carità si è reso conto che in tutta questa trasformazione dopo la caduta del Moro in quella che è la nuova Germania sicuramente le cose non sono andate proprio benissimo come si auspicava ci sono state delle cattive esperienze molti che hanno perso il lavoro e come dire questa disoccupazione è sempre il filo conduttore della narrazione dell'Occidente il fatto che appunto ci sia la radicalizzazione che tutti votino per la FD o che ci siano modificamenti come Pegida sia appunto riconducibile alla disoccupazione che se vivi abiti e sei dell'Est come dire ti ferisce abbastanza soprattutto è una sensazione che ho cercato di trasmettere all'interno del romanzo come ci si sente quando altri parlano di te e chiaramente come dire cerchi di colpire allo stesso modo gli altri bisognava in un certo senso trovare un compromesso fra due parti di un paese che sostanzialmente erano radicalmente diverse sì e appunto molto non viene detto cosa che si percepisce anche nel romanzo che tantissime cose non vengono dette non vengono pronunciate non vengono espresse e lei cosa direbbe riferendolo all'attualità esistono ancora cose che non vengono dette soprattutto in merito alla radicalizzazione o all'Est allora sui non detti non saprei che cosa rispondere penso che il non detto sia soprattutto all'interno delle famiglie fra le generazioni una problematica importante soprattutto perché lascia proprio degli spazi vuoti che vengono colmati come dicevo prima con la radicalizzazione che lascia ampio spazio soprattutto per quanto riguarda la rielaborazione del passato nazionalsocialista è un qualcosa di radicalmente diverso perché in Occidente non è stato ancora veramente riconosciuto come problematica e soprattutto non l'ha riconosciuta neanche la Germania dell'Est che potrebbero essere dei cosiddetti deficit nella cultura della memoria e soprattutto anche tutta la politica che si nasconde dietro a queste tematiche poi se guardiamo a tutte le proteste del 2018 a Chemnitz proprio nell'anno in cui è uscito il romanzo il presidente della regione con cui ho discusso continuava a negare dicendo no no noi qui non abbiamo assolutamente alcun problema di radicalizzazione di destra di estremismi di destra perché come dire l'immagine del suo Bundesland della sua regione era più importante della risoluzione di determinate problematiche sicuramente è una tematica che va affrontata tanto ad est quanto ad ovest è stato molto interessante soprattutto vedere come anche in Sassonia non viene detto molto ma quando viene parlato si parla in maniera come dire molto colloquiale e soprattutto in Sassonia abbiamo una sorta di plurilinguismo che vorrei affrontare nella prossima domanda perché a Neschwitz ovvero la località dove si svolge principalmente il suo romanzo nell'alta Lusazia in Sassonia parliamo di una regione che appartiene all'area di insediamento dei sorbi slavi occidentali ora esiste il sorabo superiore e il sorabo inferiore che sono due delle sei lingue di minoranza riconosciute in Germania però appunto in Sassonia non si conosce molto di queste lingue e delle culture che si nascondono dietro a queste lingue dunque la nostra domanda perché lei vive adesso anche nella stessa regione i sorabi che ruolo ricoprono non solamente nel romanzo ma anche nell'attuale società lei per esempio parla il sorabo che sia superiore o inferiore non so e soprattutto quanto è presente a lei questa minoranza e queste minoranze linguistiche altra domanda questa questo multilinguismo viene vissuto riconosciuto allora io non parlo sorabo sono nato in un ospedale sorabo ma è l'unico come dire punto d'incontro perché sicuramente sono nato in zone di confine non parlo di golet ma sicuramente ho sempre vissuto vicino a queste zone di insediamento sorabo per tantissimi che vengono a trovarmi per esempio da casse pensano che si tratti di polacco perché a un certo punto come dire superata Dresda ha improvvisamente la cartellonistica bilingue ed è una lingua stranissima perché la puoi pronunciare da tedesco nonostante gli accenti siano diversi e tu pensi che sia non so polacco cieco russo perché ti immagini che appunto dopo poco ci sarà comunque il confine polacco e deve essere per forza quella lingua questa è l'associazione di idee i sorabi sono una comunità molto omogenea ma molto chiusa in se stessa nel proprio guscio si tratta di una minoranza cattolica in una regione la sassonia a maggioranza protestante profondamente secolarizzata contemporaneamente però i sorabi hanno sì la loro lingua le loro tradizioni che vivono in maniera attiva però contemporaneamente sei come dire un sorabo solamente se sei nato in una famiglia soraba cioè non per acquisizione e dunque questo fa sì che ci siano dei confini ben delimitati molto chiari sicuramente vengono ben accolti dalla parte tedesca anzi scusatemi spesso e volentieri ci si sente esclusi perché la particolarità dei sorabi di questa identità è che se la come dire portano dietro da generazioni i nazisti li avevano tollerati nonostante era stato dichiarato che venissero deportati e poi tutti questi paesi dovevano essere germanizzati non doveva più esistere la popolazione soraba lo stesso diktat venne applicato dalla DDA nonostante appunto si esprimesse a favore di una unione dei popoli però appunto erano proprio loro sempre a venire cacciati per lasciare spazio a insediamenti e hanno continuato però a esistere nonostante poi ci sia stata la trasformazione la caduta del muro eccetera eccetera nonostante appunto buona parte della popolazione tedesca spesso si sia chiesta ma noi in realtà chi siamo e che cosa ci tiene uniti mentre per i sorabi sanno esattamente a che comunità appartengono quanto si sentono uniti dalla religione che ruolo ricoprano le loro tradizioni i tedeschi alle volte sono quasi invidiosi perché appunto hanno un'identità i sorabi che i tedeschi stanno ancora cercando c'è una sorta di vuoto identitario e sicuramente questo porta a degli attacchi da parte dei giovani dei ragazzi tedeschi che iniziano a lanciarsi dietro dei crocefissi nelle zone sorabe quasi per dar fastidio cosa che ho cercato di riprendere questa nemicizia anche nel romanzo le classiche domande spesso dei giornalisti occidentali quando vengono qui chi sono i sorabi e perché lì si attacca ed è proprio questa come dire l'identità appunto la cosa importante è il fatto che si parli un'altra lingua noi non li capiamo abbiamo una religione che non è la nostra e soprattutto indossano come dire dei costumi tradizionali che non abbiamo mai visto a meno che non li incontriamo durante le vacanze di Pasqua e questi sono come dire gli unici punti di contatto e sono quelli che creano poi le inimicizie poi non lo so se guardiamo il tutto anche con riferimento all'Islam o ai profughi siriani si tratta di una religione che non conosciamo delle culture che non conosciamo con delle proprie tradizioni culinarie e purtroppo l'axenofobia funziona proprio così cioè l'odio per le strane o per lo straniero è proprio questo soltanto che la precarietà di tutta questa situazione che i Sorabi esistevano quando non c'era ancora il libero stato della Sassonia dunque è un po' difficile affermare il noi contro loro perché come dire non si capisce che ci sia arrivato prima e comunque tutto ciò che è ad est dell'Elba del fiume Elba appunto erano tutti degli insedamenti i Sorabi però insomma non voglio dilungarmi troppo si tratta comunque di punti di contatto che non sono grandissimi sicuramente ci sono delle nemicizie e per fortuna da parte dei Sorabi permane un certo orgoglio rispetto alla loro identità non si lasciano intimidire questo porta spesso a dei conflitti nel frattempo però è una cultura che viene coltivata sono sempre di più le scuole Sorab e comunque si convive bene grazie mille riprenderei io adesso la parola grazie mille soprattutto per questo sguardo particolare al plurilinguismo sassone che probabilmente la maggior parte degli ascoltatori immagino qui in Italia non conoscevano motivo per il quale è stata scelta anche come tematica arriviamo all'ultimo blocco di domande che è un blocco più piccolo rispetto alle domande affrontate sinora vorremmo parlare dell'attualità in Germania però non vogliamo affrontare la tematica del coronavirus ma piuttosto la situazione politica in Germania perché la nostra domanda è la seguente come vede gli sviluppi attuali soprattutto questo avvento dell'estremismo di destra che purtroppo è un fenomeno che sta prendendo piede un po' in tutta la Germania il fatto che appunto ci siano sempre più forme di estremismo di destra e di razzismo comprovato all'interno del corpo della polizia motivo per il quale i grandi partiti appunto alle elezioni comunali e regionali appunto debbano affrontare la tematica e vorremmo affrontare con Lucas Richel anche questo suo ruolo di homo politicus di rappresentante della politica tedesca beh non è che sono come dire delle domande cioè sono dei grandi complessi però comunque abbiamo ancora 27 minuti di tempo per affrontare queste questioni per cui ci sono 27 minuti a disposizione e un'unica domanda che le faremo finita la sua risposta per carità esiste sono tantissime le problematiche che dobbiamo affrontare e fa bene chiaramente ogni tanto non concentrarsi solo sul coronavirus perché per carità il covid-19 sta trasformando tutto ma spesso e volentieri ci si dimentica che poi c'è la politica interna la politica ad attualità o comunque trasformazioni sociali che appunto finiscono un po' nel dimenticatoio fra le quali anche l'estremismo di destra come giustamente ricordava nel corpo della polizia nelle forze dell'ordine io penso che il grandissimo problema sia chi recluti chi cioè quali sono i gruppi che riescono a infiltrarsi nelle forze dell'ordine il fatto che esistano dei poliziotti che condividano un insieme di valori totalmente diversi da quelli che dovrebbero essere quelli del corpo della polizia che votano in maniera completamente diversa che anche il nostro sistema politico si stia trasformando con i nostri valori le normative io ho già detto accennavo già prima a questo nuovo e vecchio ceto medio si tratta come dire spesso di adagiarsi in determinate nuove situazioni io adesso non voglio generalizzare chiaramente esistono anche altre forze dell'ordine che come dire non si attengono alle regole però la maggioranza diciamo che grazie al cielo è estranea a queste deviazioni a queste derive esistono sicuramente delle forze all'interno della nostra società che non si sentono più come dire trascinate che non si sentono più incluse e questo dipende spesso e volentieri anche dal fatto non parlo solamente di catena del valore ma anche di riconoscimento soprattutto non venire riconosciuti ecco da una società si tratta di una come dire di una catena di valore economico e anche culturale ovvero chi lasciamo partecipare ai nostri dibattiti alla nostra politica alle nostre tematiche problematiche di natura sociale dunque quando hai improvvisamente la sensazione che a partecipare siano solamente le grandi città o che a partecipare sia una sorta di elite globalizzata è chiaro che chi non è incluso in queste cerchia inizia a muovere smuovere qualcosa e questo riguarda anche le persone all'interno delle forze dell'ordine gli insegnanti negli ospedali negli enti negli enti pubblici che prima appartenevano a quella classe media canonica e dunque avevano voce in capitolo ma che adesso si sentono sotto pressione perché esclusi dunque bisognerebbe cercare di come dire riportare anche una una forma di riconoscimento quanto sia importante appunto includere le persone farle sentire partecipi far sentire loro che hanno un valore in questa società senza senza dargli la sensazione di essere come dire gli zerbini semplicemente della nostra società dei partiti politici la rappresentazione è molto molto importante il fatto di sentirsi inclusi con la propria voce avere una voce articolata all'interno di quelle che sono le problematiche della nostra società in questo senso è il sistema anche a doversi mettere in discussione i punti tipo questa estremizzazione della politica è anche una sorta di voler nuovamente avere voce in capitolo voler far presente guardate che siamo qui io adesso non voglio trovare delle scuse per queste derive ripeto nelle forze dell'ordine però non dobbiamo semplicemente puntare il dito contro queste derive e questo ci permette di affrontare una tematica sicuramente molto molto importante abbiamo ancora 20 minuti noi abbiamo un'unica domanda dunque Lucas Richel se è d'accordo vorrei dare la possibilità al pubblico di porre delle domande tranquillamente anche in chat verranno tradotte oppure in tedesco come volete però fate le domande in chat se è d'accordo vediamo un attimo quanto rapidamente riescono a digitare allora mentre il pubblico riflette sulle domande avremmo una sorta di domanda di riserva perché vorremmo cercare di abbinare la tematica della politica con quella della scrittura perché una domanda per antonomasia è quanto politica può deve essere secondo lei un autore un'autrice oggigiorno so che chiaramente non si può generalizzare ma secondo lei quanto può essere appunto così e poi abbiamo anche una prima domanda penso che una due domande riusciamo ancora a prenderle ma iniziamo con così allora sono un grande difensore del fatto che l'arte non deve nulla gli artisti non devono nulla un'arte politica politicizzata ha ragione da esistere come le belle arti la bella arte soprattutto è bello se le due arti riescono a convivere in parallelo io penso che quando si ha un impegno politico un'opinione politica che non deve essere confusa con una trama con una storia con un racconto perché si tratta comunque di raccontare qualcosa di inventarsi anche qualcosa in un certo senso per i politici come dire sono responsabili i giornalisti si tratta anche di una ridistribuzione dei ruoli però in Germania come dire già ce l'abbiamo con un programma come Tantot dove si ha appunto una tematica politica attorno alla quale ruotano tutti i personaggi sembra un po' come un teatro di Burattini che sinceramente non mi piace se qualcuno ha un'opinione ha qualcosa da dire lo deve fare con i mezzi a sua disposizione deve potersi immischiare nel dibattito partecipare al dibattito questo almeno è il mio approccio e spero anche che riusciremo a trovare un modo per rielaborare anche tutta questa esperienza legata al coronavirus che sia anche entusiasmante non solamente come dire piatta come narrazione provocante grazie per aver risposto a questa domanda provocatoria ma abbiamo delle domande sicuramente più sensibili da parte del pubblico e fa Cristina Charlotte Tune da Bologna chiede se ha avuto un modello di riferimento per il suo romanzo allora modelli riferimenti immagino forse una struttura portante immagino non so richiedo una struttura portante che insomma mi ha permesso di strutturare il romanzo sicuramente sapevo dove volevo andare e sapevo qual era il mio punto di partenza non avevo scritto non avevo presente una tesi io all'epoca stavo ancora studiando e non avevo mai pensato di essere pubblicato ma mi chiedevo perché le persone si estremizzano si radicalizzano perché incendiano degli insediamenti perché appunto erano delle tematiche che mi avevano colpito personalmente a casa con gli amici poi lo so che sembra un discorso quasi esoterico come se le domande o la tua idea prendesse corpo dagli eventi che appunto vivi in quel momento però appunto ti permette di decidere se andare in una direzione piuttosto che l'altra ah no intendeva dei modelli ai quali ha fatto riferimento no in quel senso no sono un grande fan di Steinbeck perché mi piace tantissimo come in un certo senso si impegni politicamente ma al contempo diffonda le sue tematiche e ho sempre pensato che se riuscissi in quell'intento sarebbe fantastico ma a parte lui non ho avuto un vero e proprio modello ho letto Truman Capote ho letto Albert Camus ma erano più come dire dei modelli per la loro lingua per la loro scrittura ma per la storia in sé o per la struttura della romanzo no anche perché all'epoca in un certo senso non sapevo neanche come la letteratura contemporanea tedesca si stesse comportando con delle domande del genere solo dopo ho scoperto Clemens Maia o altri scrittori simili mi sono come dire anche lì imbarcato in una sorta di viaggio conoscitivo in un territorio che prima non conoscevo ci sono altre due domande da parte del pubblico e le cito insieme quale ruolo svolgono le donne nell'ambito sociale del suo romanzo si è parlato di dell'uomo della radicalizzazione qual è il ruolo svolto dalle donne nell'ambito sociale del suo romanzo e poi Sandro De Martino chiede un momento interessante nel suo romanzo è la comparsa del mondo quindi la presentazione del mondo qual è stato per lei questo momento quanto è importante per lei questo momento speriamo che appunto a breve ci sia un altro incontro magari in presenza con Lucas Richard quindi ci fermiamo qui con le domande la domanda relativa alle donne è un'ottima domanda perché nel romanzo praticamente non svolgono nessun ruolo ed è una cosa voluta l'abbiamo già detto in precedenza ci sono tante persone che se ne sono andate dalla Germania dell'Est e nella strammaggia parte dei casi si trattava di donne donne della classe lavorativa socialista persone che hanno lavorato hanno studiato e che per questo motivo volevano evolversi andare oltre si sono spostate verso le grandi città lì si sono trasferite e i gruppi invece di uomini che abbiamo nel romanzo sono persone che sono rimaste che sono persone che quindi soffrono che hanno lasciato la scuola e che si rivolgono invece alle scuole che vanno nelle scuole dove possono trovare le uniche donne che possono in realtà avere a disposizione le quindicenni le sedicenni che ancora non se ne sono andate perché invece le donne per così dire secchione quelle che hanno studiato se ne sono già andate si sono trasferite altrove a volte nell'Est ci sono anche genitori ci sono uomini che tirano sui propri figli da soli perché le donne se ne sono andate si sono trasferite nell'Ovest a livello di coesione sociale c'è questo ruolo della donna della madre della nonna che però un po' scompare nell'Est quindi ci sono delle donne sicuramente nel background sullo sfondo ma sono sempre gli uomini a svolgere questo ruolo in primis di protagonisti che si riempiono la bocca che si ubriacano c'è stato poi un riequilibrio tra il numero di persone che si sono trasferite fuori dall'Est e che sono rientrate verso l'Est però questo comunque non riappiana la situazione cioè il rapporto uomini e donne e soprattutto il fatto che le donne più brillanti si trasferiscano poi verso l'Ovest verso le grandi città un paio di anni fa quando ci sono state le elezioni in Austria ho proprio affrontato queste tematiche non saprei dare una risposta concreta sicuramente forse gli uomini sono più esposti sono più portati a lasciarsi trasportare da questo estremismo da queste correnti di pensiero più conservatrice non posso dire magari di non essere stato io stesso interessato da questi aspetti magari tu hai già trovato l'antidoto beh vedo queste persone questi uomini che appunto hanno superato i 40 anni e che si trovano molto soli anche a livello politico quindi forse 40 è proprio una cifra magica allora ricapitolo un attimo la risposta magari se mi ricapito l'ultima risposta o meglio l'ultima domanda alla quale vorrei rispondere ovvero se c'è stato per lei questo Auftritt de Welt quindi questa comparsa del mondo questa presentazione del mondo pensiamo agli anni 90 lo stesso periodo in cui anch'io ero giovane ero bambino per i miei genitori si è trattato un po' di uno shock vedere che ci fosse ancora un qualcosa al di fuori della realtà nella quale vivevamo se ripenso alla mia topografia quindi a come conoscevo il mondo la geografia sembrava che non ci fosse nulla al di fuori della Germania dell'Est e poi all'improvviso arriva l'America in questa forma così concreta il tutto è arrivato con grande violenza con una sorta di grande esplosione agli aerei e tutti ricordano quello che è successo e le nuove generazioni nate dopo il 2000 2001 2002 non ricordano chiaramente tutto il processo della rionificazione però sono già cresciute nella globalizzazione e non hanno vissuto questi momenti di dolore il 2001 11 di settembre si parte si parla di radicalizzazione di globalizzazione di forma della sofferenza che queste generazioni invece non hanno vissuto da vicino e le generazioni successive quindi dopo di me dovranno appunto esprimersi sulla globalizzazione su internet su questo collegamento che c'è tra tutte le parti del mondo ci saranno dei nuovi slogan non so se il coronavirus a questo punto di vista farà da propulsore o no però di certo la globalizzazione adesso la stiamo vedendo molto più da vicino internet è una rappresentazione costante permanente di questa globalizzazione e se penso ai primi anni 2000 la situazione era 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 diversa ecco quindi staremo un po' a vedere sicuramente questo è un processo un compito di rielaborazione che aspetta agli artisti sicuramente sì purtroppo possiamo rispondere ad un'ultima domanda che abbiamo appunto nella chat la domanda è stata posta da Giulia Iannucci e recita a suo avviso qual è il sottotesto sono i sottotitoli a livello politico culturale del romanzo in relazione al non detto per quanto riguarda la futura traduzione del romanzo sia in italiano che in altre lingue come potrà essere tradotto trasferito questo concetto di cultura di società dell'altro già in tedesco ci sono state delle difficoltà perché è stato adattato c'è stata una trasposizione teatrale di questo romanzo e poi verrà appunto realizzato anche un film quindi non vedo l'ora proprio di vedere come in un'altra forma artistica verrà trasposto questo romanzo e come funzionerà il tutto io stesso appunto non vedo l'ora magari in inglese potrei chiaramente fare una revisione della traduzione ma nelle altre lingue non saprei proprio e quindi non saprei qual è la sensazione che il romanzo comunico ed è questo proprio l'aspetto chiave qual è la sensazione che dà leggendo di questi personaggi credo che possa funzionare tutto anche in altre lingue la domanda è però con quali strumenti qual è l'elemento che scatenerà le sensazioni in coloro che leggono o che ascoltano l'opera in futuro in futuro non c'è nulla di peggio che un'arte che ti lascia completamente indifferente che non ti dà nulla ecco ok e direi che quindi arriviamo proprio alla prossima domanda abbiamo sentito che forse in questo momento sta già lavorando ad un nuovo progetto di romanzo magari in conclusione ci può svelare qualcosa relativamente a questo suo progetto che si sta concretizzando sì si tratta di due progetti che attualmente sono in corso un'opera teatrale da un lato che dovrebbe debuttare il prossimo anno ad aprile che si chiama Vida Stand quindi Resistenza e si parla anche in questo caso di un padre di famiglia che si dedica al terrorismo e che subisce questo processo di radicalizzazione attraverso internet il paese sa dove lui vive sa di questo processo di radicalizzazione lo copre anche e ci sono tanti conniventi che comunque assistono alla situazione e che lo lasciano passare all'azione lo lasciano quindi agire quindi il percorso di radicalizzazione non avviene solamente tra i giovani tra i più giovani ma anche tra persone adulte del ceto medio e questo argomento mi interessava molto e l'ho voluto portare in scena e ora al di là del coronavirus se tutto funziona se tutto va come deve andare in estate e in ottobre dell'anno prossimo ci sarà anche un nuovo romanzo Georg Baselitz sarà il personaggio principale di questo romanzo che viene dall'Ovest ma che poi è cresciuto a Kamenz e poi c'è il fratello che invece è rimasto a Kamenz e farò di nuovo riferimento alle tematiche della radicalizzazione ciò che si è verificato prima della scrittura del romanzo quindi la storia della ex DDR e di come le storie familiari possono tracciare delle profonde trincee tra le varie famiglie quindi profonde ferite che si poi espandono e si diffondono sino alla contemporaneità Georg Basel e il fratello ecco questa è la storia che mi ha sicuramente molto aiutato e anche l'arte di Georg Basel vedremo appunto se il tutto funziona ecco per me è stato un grande stimolo ho cercato una nuova forma di racconto parallelo per rielaborare il passato e per te questo era un romanzo molto importante e speriamo appunto che arrivi presto ma cose di questo tipo è difficile calcolarle beh sicuramente ha già trovato i suoi primi lettori non vediamo che il nuovo romanzo arrivi sugli scaffali grazie mille a questo punto per avere partecipato terminiamo qui il nostro ruolo di moderatori e ridiamo la parola al direttore Bernhauer grazie mille e dottor Bernhauer di nuovo a lei la parola anch'io desidero ringraziarvi per la moderazione è stata una serata molto gradevole grazie anche per tutte le domande e ho visto che appunto all'inizio eravamo in circa 50 30 sono sopravvissuti magari appunto sarà bello in futuro organizzare un incontro live in presenza certo il nostro invito lo rinnoviamo molto volentieri a Bologna a Roma in presenza sarà un piacere beh adesso l'aeroporto di Berlino dovrà appunto essere essere ben funzionante prima che io arrivi lei avrebbe potuto acquistare uno dei primissimi biglietti aerei dei primi voli in partenza dal nuovo aeroporto di Berlino beh qui mi vedete con questa bella foto alle mie spalle vedete il Goethe Institute quindi le diamo già il benvenuto sino ad ora per quando verrà a trovarci di persona potrei stare ad ascoltare a lungo ha scritto un romanzo fantastico grazie mille non vediamo l'ora di leggere le sue prossime opere o magari di assistere alle sue opere teatrali magari ci sarà anche una trasposizione filmica del suo romanzo abbiamo trovato quindi grandi stimoli e siamo certi che quello che lei ha scritto potrà essere facilmente trasporto anche sotto altre forme artistiche grazie Marco Triulzi e Anna Nienzen per la moderazione veramente bravissimi e grazie mille al DAAD e grazie mille ovviamente anche alle nostre interpreti storie da Dugolinelli e Marzia Sebastiani ho ascoltato qua e là anche la traduzione in italiano mi è parsa molto scorrevole e quindi devo dire che la cosa ci dà grande coraggio pensiamo che questo sia un formato che sicuramente possiamo replicare quindi questo formato online ed ha sicuramente anche la possibilità di entrare Mediasresa nel dialogo quindi penso che a breve ci sarà anche appunto la traduzione in lingua italiana del romanzo se ne è parlato proprio oggi del concetto di traduzione in altre lingue del romanzo a volte appunto è proprio una lotta quella di riuscire ad arrivare alla traduzione giusta la parola giusta la ricreazione del discorso in un'altra lingua quando si traduce un romanzo e speriamo appunto che le traduzioni le versioni tradotte possano essere più che soddisfacenti per lei volevo ringraziare anche tutte le colleghe del Goethe Institute in primis Antonella Perin avete organizzato tutto in maniera assolutamente esemplare penso che siamo stati tutti molto toccati trasportati da questo da questo incontro serale si è detto che non c'è cosa peggiore che un'arte che lascia indifferenti beh questa sera di certo non siamo rimasti assolutamente indifferenti grazie mille e buona serata a tutti